RISING TEAM Presentata per la prima volta al Salone di Francoforte nel settembre 2017, la nuova Renault Megane RS è una delle vitture più attese dagli appassionati di guida sportiva. La terribile media francese tende a diventare, come le progenitrici, un punto di riferimento nel segmento C, il mercato più importante in Europa. La terza generazione di Megane RS è un concentrato di esperienza e passione della Renault Sport. Il suo design potente è focalizzato sulle prestazioni e la nuova Renault Megane RS non prova nemmeno a nascondere il suo pedigree sportivo, offrendo un eccezionale piacere di guida su strada e in pista. Il telaio unisce efficienza, agilità, stabilità e comfort, equipaggiato con il sistema 4Control, che offre quattro ruote stersanti e controllo degli ammotorizzatori. Sotto il cofano, il motore turbo da 1,8 litri di nuova generazione, che offre 280 CV e 390 Nm di coppia, grazie al lavoro di sviluppo svolto congiuntamente dagli ingegneri di Renault Sport Cars e Renault Sport RISING. I clienti possano scegliere una delle quattro versioni, adattate a tutti gli usi, con due tipi di trasmissione, cambio manuale o EDC, e due tipi di telario, sport o coppia. Altre caratteristiche e tecnologie all'avanguardia, come ad esempio RS Vision o Multisense, aumentano la PIL della nuova versione di RS. Dalla prima generazione di Megane RS del 2003, abbiamo costantemente fornito maggiori prestazioni e più tecnologia, offrendo un piacere di guida migliore, senza sacrificare la versatilità per l'uso quotidiano. Sostituire la versione precedente è stata una vera sfida per l'intero team. Siamo orgogliosi di essere riusciti a produrre un'auto con miglioramenti palesi, efficienza in curva, in gran parte dovuta all'introduzione di 4Control. Il sistema migliora sia l'agilità nei tratti stretti, che la stabilità su curve veloci, su strada e in pista. Attingendo al vasto patrimonio motoristico, la nuova Renault Megane RS è stata progettata da persone appassionate di auto per persone che amano guidare. La sua versatilità la rende anche perfettamente adatta all'uso quotidiano, ha commentato Patrice Ratti, amministratore delegato di Renault Sport Cars. Dopo essere stato coinvolto nel processo di sviluppo nel 2017, sono molto orgoglioso di essere l'ambasciatore per la nuova Renault Megane RS. Ho avuto l'opportunità di guidare la macchina in vari circuiti, Monaco, Montlheri e Spa Franco-Chance, e sono rimasto impressionato dall'efficienza delle ultime tecnologie. Il sistema 4Control è un sogno che si avvira per ogni pilota alla ricerca di efficienza, dal momento che migliora sia l'agilità che la stabilità dell'auto. E' un peccato che i sistemi di guida a quattro ruote siano vietati in Formula 1. E' il giudizio di Nico Unkelberg, pilota Renault Sport Formula One e ambasciatore Renault Sport Cars.